Ehi, Pumni! Indovina un po'. No... Hai ragione! L'episodio pilota del fantastico circo digitale ha avuto una sola visualizzazione e quindi ora faremo l'episodio 1 del fantastico circo digitale! È l'intera stagione 1! Ehm... Così che funziona di solito? Sta zitta! Ho molto da mostrarti! La tua piccola e piagnucolosa faccina ha lasciato il segno sull'internet! Qualcosa di cui canonicamente non ho alcuna conoscenza! Ecco qui! Ma che c***o sto guardando? Le conseguenze delle nostre azioni! E non farà altro che peggiorare! Oh no... Ma voglio mostrarti altro! Voglio farti vedere tutte le divertenti avventure in cui tu e i tuoi amici vi imbatterete! Come il regno caramellato! E Kinger con un fucile! E non dimentichiamoci dei lavori sottopagati! E poi un po' di... Ehi aspetta un attimo! Questo non è ancora finito! Ciao Kane! Ti ucciderò! Eh... Cosa? Perché? Ho letto tutti i copioni e non ho nemmeno un dialogo! Mentre la luna ne ha due! Beh... Allora avrei qualche battuta in più! Ok non importa! Non voglio più ucciderti! Parlando di battuta ce ne saranno tantissime da molti dei nostri nuovi fantastici personaggi! Con così tanti personaggi immagina tutti i violenti conflitti dove noi saremo impotenti e non potremmo farci nulla a riguardo! Questo... Questo è un grido d'aiuto? Capisco... Ho... Ho...